bello a tutti ragazzi io sono Ender e oggi un nuovo Futuro Enders da presentarvi, Leo Pla ok poi ci sono poi c'è anche Matti e Fonder Tunic che vogliono fare che vogliono fare allora il nostro caso Leo Pla è un fan che mi ha scritto nei commenti della live allora vi è muto un attimo Fonder e anche Matti perché parlano delle loro cose e vogliono stare lo stesso allora avviamo allora sai già come si fa il provino o no? vabbè sì io lo faccio allora in realtà prima devi killare degli zombie poi devi fare 3 1 v 1 contro di me facciamo dai aspetta che sparca o non sparo mi faccio un cimicianga sì se vuoi puoi anche killare io qui mi faccio un attimo vabbè spazio mi faccio un cimicianga allora hai finito? ok bene gli zombie sono morti 1 vio 1 adesso io ogni volta che mi giro vedo la scritta gigante Enders e mi emoziono anche se so che l'ho fatta io ma villa in legno gli altri mi stanno abbandonando vabbè 3 2 1 via 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 voglio vedere se sei forte o no oppure sei tra yardi o qualcosa del genere no io intanto oh che salvataggio ok allora io intanto tu pusci ok puscia pure nessuno te lo vieta oh mio dio perché hanno stanno gli altri li stanno abbandonando io tunnelo un po' anche se non sono bravissimo ma cosa mi hai distrutto fra vabbè spacca 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 quindi uno ti segno un uno ok wow mi hai distrutto eh allora è uno per te arrivo su ti regalo anche qualcosa se riesci ad entrare nel team ok aspetta no perché ho fatto una finestra dopo due giorni perché non posso regalarti qualcosa 3 2 1 via vai ma no le scale le scale le scale aspetta time un secondo le scale rotte sai quando ti faccio vedere qualche edit però ora non so molto forte come stavo a cambiare le impostazioni guarda ma adesso io ho mouse e tastiera però non sono a casa mia adesso quindi non posso ce l'ho lasciata indietro mano e tastiera pensando che non mi servissero invece mi hai distrutto cosa scusa no fra what secondari play dai rompi ci dobbiamo sbrigare l'ultimo 1v1 faccio due per te ma ormai sappiamo già sei nel team ah se facciamo 4 1v1 magari così facciamo un po di dubbi perché se 3 1v1 poi dopo 2 sappiamo già che sei nel team quindi si arriva a 4 si dai 4 4 4 4 allora 3 2 1 via è già esclusivo che te stai facendo il provino perché i provini li ho chiusi da un po eh ahia eh già quasi come stai ahia mi hai fatto un casino di danno hittato raga lui c'è delle skin però vuole giocare a default perché mi piace uh uh allora questa come la gestisco adesso devo tunnelare no ho risposto sbagliata oh mannaggia perché no non mi hai dita aiuto sono caduto questa non è una cosa buona oh che salvataggio con l'hitchhot con l'hitchhot un salvataggio no uno per me che salvataggio fra non buildare la è la torre dei punti fra non buildare no no non servono gli edit per entrare nel team basta solo saper fightare per entrare nel team dai allora tre aspetta tre due uno via qua mi sto impegnando no non ho voluto non ho voluto shopparla tu ce l'hai la nuova renegade vampa si ah secondo te ce l'ho o no se mi segui sai la risposta no secondo te non ce l'ho no io ce l'ho la nuova renegade allora non hai visto il video in cui sei chi lavora la nuova renegade chi finiva il video ma ti piace e ti piace il video giusto una domanda? ah che idea ahiai 4 di vita no 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 allora come me la cava adesso qua non è mio il muro eh no sono finito sono finito sei nel sei nel mi sa che sei nel team Sei nel team? Controllo No siamo 3 a 1 E 4 3 No 2 a 1 E 3 dobbiamo fare il T1 Si 3 a 1 Sei ufficialmente negli Enders Complimenti Vieni qua Batte il 5 Aspetta batte il 5 Batte il 5 Aspetta No ho fatto Bugeedown Perché Bugeedown mi fai? Vai perfetto Vuoi che facciamo una challenge Di Capitano America nel prossimo video Allora togli le build Ragazzi per oggi è tutto Ci vediamo Al prossimo video Da Leo E io Cioè Ender Vabbè Ciao 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 Grazie a tutti.